Oggi a Smart Energy Expo abbiamo effettuato il forum della cogenerazione. La cogenerazione è una componente molto importante degli obiettivi di risparmio energetico che ci vengono fissati dall'Europa e dalla cogenerazione è atteso un contributo fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi. Non solo, l'Europa impone che tutti i Paesi membri effettuino uno studio delle potenzialità di penetrazione della cogenerazione nei singoli Paesi, nei singoli sistemi e questo studio deve essere poi ripetuto con cadenza periodica e gli studi devono essere presentati alla Commissione Europea. Oggi nel forum si sono confrontati gli attori incaricati ufficialmente e istituzionalmente di compiere questo studio, le associazioni CogenEurope, che è l'associazione europea della cogenerazione, tutti impegnati a definire le metodologie, i modelli e le potenzialità dello sviluppo della cogenerazione nel sistema non solo italiano ma anche europeo. Oggi parlo dell'importanza della cogenerazione ad alta efficienza all'interno delle politiche europee. La cogenerazione fa parte della strategia europea al 2030 e al 2050. Perché? Perché è una produzione ad altissima efficienza per la generazione di elettricità. Il messaggio che voglio dare è proprio che l'Europa supporta l'efficienza energetica e quindi ha creato proprio dei piani strutturali a favore della cogenerazione. Le strutture europee, i sistemi europei stanno cambiando nel campo dell'elettricità e anche la cogenerazione deve cambiare e progredire per tenere il passo. Il forum sulla cogenerazione è uno snodo importante da considerare anche nelle future politiche energetiche e nelle scelte che faremo. In particolare io credo venga affrontato qui, oggi, forse per la prima volta, il tema della programmazione della cogenerazione che dovremmo fare nei prossimi anni. Che è un obiettivo stabilito e un obbligo che abbiamo ai sensi della direttiva sull'efficienza energetica. Quindi è un passaggio assolutamente essenziale. Grazie a tutti.